Sono il montatore di Magnum Opus, il corto di Carlo Friggenti, e il mio lavoro è stato difficile perché dovevo mettere in ordine tutte le clip in modo che avessero lo stesso ordine della sceneggiatura. Io ho curato la color del corto Magnum Opus, con la drop le mandavo le foto su Whatsapp, andava bene fin quando non ha terminato la memoria e lì sono rimasto da solo. Ho vissuto dei momenti drammatici, però ce l'abbiamo fatta.